Presidente, che è successo ieri? Adesso parliamo, stiamo qui per parlare di altre cose, parliamo dei calci, dai. Ma cazzo, ma... Eh, è che sì, ma c'è stata una partita, sì, è partita o no, ieri è stata una partita che sicuramente da un punto di vista del gioco forse avrebbe meritato un pareggio perché mi sembra che le squadre abbiano fatto chissà che, abbiamo perso un gol, basta, è finito lì. Fudoro l'approccio giusto secondo lei, certo non gli si può imputare nulla ovviamente, no? Ma adesso, secondo me, sono le prime partite, bisogna trovare, come dicono, l'assestamento. Lei come si è trovato, questo intendo dire, come vede l'inizio? Ma io ho avuto pure poco tempo, purtroppo, per seguirlo in qualche maniera. Adesso mi pare di capire che lui sta studiando per capire qual è l'assetto giusto, poi la squadra ha le condizioni di poter far bene, quindi... La squadra sta reagendo bene, secondo lei? Eh, giornalaccia. La squadra sta reagendo bene. Senta, un derby anche all'insegnante. Ma scusate, ma io sto qui per... Parliamo di un po' di... Parliamo di tutto. Cioè, adesso, scusate, ritorniamo di... È iniziata la mattina con scontri violenti della tifoseria, tra gli arrestati e anche un l'assale che era... Ma no, forse, i miei arrestati sono stati con i romanzi, ma non è quello. Noi siamo contro, sicuramente, contro... Ecco, infatti, io lo sto spiegando, non lo capisco. Noi siamo contro la violenza, la combattiamo, forse io sono l'emblema di questo, però ho messo in atto tutte le situazioni che sono volte a reprimere, a prevenire, in situazioni. Grazie. Grazie.